eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questo appuntamento giornaliero ieri sera alle ore 19 come sempre nuovo aggiornamento interno di call of duty black ops 4 stranamente questa volta la triarch non ha rilasciato il changelog di questo aggiornamento me ne sarete sicuramente accorti perché prima di avviare il gioco quando fa connessione server vi ha fatto un piccolo download quindi nuova patch interna però questa volta la software house non ci ha svelato che cosa è successo e neanche sul sito ufficiale vi ragionate su questa cosa unica piccola impressione che già ho avuto che leggermente il livellamento del mercato nero ha aumentato giocando il multiplayer la barra sale un po di più rispetto a prima fatemi sapere le vostre impressioni oppure se avete notato altri cambiamenti nel video di oggi con video rumors un video leaks un video di indiscrezioni parleremo delle possibili armi che arriveranno in un prossimo futuro all'interno di black ops 4 perché perché un utente su reddit.com ha rilasciato una lista che state vedendo e che poi stranamente è andato a rimuovere vediamo queste armi che ha riportato quest'utente che non ha svelato come è entrato in possesso di queste informazioni ovviamente sono indiscrezioni e rumors non ancora confermate ufficialmente dalla triarch a novembre secondo appunto questo post dovrebbe arrivare l'M8A4 un'arma molto simile all'M8A1 di BO2 e poi dovrebbe arrivare il tractor LMG un'arma molto simile al dingo di black ops 3 con il rato di fuoco veramente molto ma molto veloce a dicembre la candy cane quindi un'arma corpo a corpo e il wharf AR un'arma che sembrerebbe essere il commando di black ops 1 e poi un altro fucile a pompa il bakhei a gennaio sempre secondo queste indiscrezioni dovrebbe arrivare il pqx quindi una pistola un'arma molto simile all'MP5 che dovrebbe prendere il nome di mark 8 e il remake del galil di BO1 con il nome grav AR a febbraio un'arma dedicata appunto a san valentino il cubitz bow che sarà a quanto pare un'arma corpo a corpo e uno sniper dal nome derrick by .50 a marzo ritorna l'MSMC remake da black ops 2 con il nome PSMC un fucile tattico semiautomatico dal rato molto elevato l'obern 2040 e un'altra arma corpo a corpo il broken battle queste sembrerebbero essere le armi in arrivo nei prossimi mesi all'interno di black ops 4 vi ricordo come sempre che sono dei leaks, dei rumors, delle indiscrezioni che sono state riportate in queste ore su reddit.com e che stranamente sono state rimoste e non ancora confermate né da Activision né da Treyarch vi darò ovviamente aggiornati sulla notizia ma se venissero confermati sarebbero veramente qualcosa di fantastico perché rivedere l'M8A1, il Dingo, il Commando, l'MP5 e il Galil all'interno di Black Ops 4 sarebbe veramente qualcosa di fantastico qui sotto nei commenti fatemi sapere quale arma vi piacerebbe vedere dei precedenti Black Ops all'interno del nuovo titolo targato Treyarch lasciate un bel mi piace per supportare il TG informativo di Call of Duty e noi ci vediamo ad un prossimo video Grazie a tutti